Nessuno avrebbe mai immaginato di sentire una notizia del genere, e questa notizia ha rapidamente fatto il giro dei giornali locali e nazionali. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Negli ultimi tempi in Italia si sono verificati una serie di eventi tragici che hanno profondamente colpito l'opinione pubblica. Si tratta di incidenti improvvisi e scioccanti, spesso legati a improvvisi problemi di salute. È stata disposta un'autopsia sul corpo di Ambra Delegda, una maestra d'asilo, che è stata trovata senza vita nella sua casa a Cala Rossa, a Trinità d'Agulto. È stato il suo compagno a lanciare l'allarme disperato. Inizialmente, la causa del decesso è stata attribuita a cause naturali, ma ora ulteriori indagini sono in corso. La giovane 28enne era una figura molto conosciuta nel suo paese natale, Vidalba, e anche a Santa Maria Cobinas, il luogo d'origine di sua madre. A causa di questa tragica perdita, i festeggiamenti civili in onore di Santa Maria delle Grazie sono stati annullati come segno di lutto. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale. Grazie. 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 Grazie.